Valuto i vostri disegni. Singolo parte 3. Mattia, alla tua età mi aspettavo molto di più. Il personaggio di per sé non si somiglia tantissimo. La testa è leggermente deformata. Le ombre e le luci sicuramente non si trovano nel posto giusto. E per quanto riguarda il colletto si è stato molto superficiale. Voto 9.8.